Ciao Giorgio, buongiorno. Buongiorno. Senti, io stavo inquadrando le tue locandine social, però oggi non parliamo di social, parliamo invece di pizza e di qualcos'altro, perché qui siamo al ballatoio, quindi un localino che ormai è diventato storico a Pistoia. È storico da un certo punto di vista e innovativo, visto che l'abbiamo preso in gestione da poco tempo. Ecco, perché io lo conosco, una pasta, una bella pizza al taglio, prenda, colazione, pranzo, eccetera e basta. E ora invece che è cambiato? Invece l'abbiamo esteso e proponiamo, innanzitutto, i taglieri, delle focaccine molto particolari, e comunque con quelle caratteristiche di comodità, stando seduti sia nella stradina che nella nostra saletta adegua. Ecco, perché hai anche una saletta a degustazione accanto. Esattamente.